Ciao a tutti bentornati o benvenuti sul mio canale! Oggi nuovo video che ho cambiato in corsa perché in realtà avrei dovuto fare top flop low cost, poi visto che molti prodotti sono di Kiko ho pensato di farvi i miei top di Kiko visto che adesso ci sono anche i saldi, ho acquistato altre cose che mi sono piaciute fin da subito, quindi le inserirò in questo video e vi dirò praticamente i miei consigliati di Kiko. Sono girata rispetto al solito, ho deciso di cambiare un attimino l'impostazione dei video perché visto che ho un nuovo specchio che adesso vi farò velocemente vedere e vi ho già fatto vedere anche su Instagram perché vi ho postato la mia postazione makeup, riesco a fare i video anche girata così senza avere la ring light tutte le volte da spostare perché di solito io la ring light la utilizzavo per truccarmi come luce, invece adesso che ho questo specchio con 12 led riesco a truccarmi tranquillamente senza la ring light. Allora lo specchio è questo a 12 led e ha tre impostazioni di luce proprio a livello di luce calda, luce fredda e una luce intermedia diciamo, ha tre pulsanti touch, con quello in mezzo si accende e rimane praticamente in memoria l'ultima impostazione che avete utilizzato. Poi con questo praticamente andate a ruotare le varie luci che sono tre e con questa lampadina regolate l'intensità della luce. Questo è uno specchio che trovate su Amazon, vi lascerò anche uno sconto del 20%, a me è stato inviato direttamente dal venditore. Tra l'altro ha anche una ventosa con uno specchio che ingrandisce quindi molto comodo, questo lo potete attaccare dove volete anche per fare le sopracciglia per vedere bene i peletti, questo qua è comodissimo. Poi c'è anche questo vassoietto dove potete appoggiare le matite, i lucidalabbra, i mascara, insomma quello che volete. Io trovo che sia veramente molto comodo per truccarmi alla mattina, soprattutto quando mi trucco che fuori ancora buio, questo mi dà la giusta luce per truccarmi, insomma vedo bene cosa sto facendo. Allora parto con il mostrarvi dalla base viso i prodotti che preferisco di Kiko. Allora un prodotto che per me è una novità perché l'ho acquistato di recente, tra l'altro ha un prezzaccio perché costa in sconto mi sembra 3,60 euro ed è della collezione Wonder Woman. Questo è un primer perfezionatore, ha subito un effetto molto fresco, è un primer in mousse che mi sta piacendo veramente tantissimo, aiuta anche la stesura del fondotinta. Io oggi l'ho utilizzato, mi sono truccata stamattina esattamente 7 ore fa e la base è ancora perfetta. Adesso la luce arriva anche dalla finestra di fianco quindi fatemi sapere se così vi piace un po' l'impostazione nuova dei miei video. Comunque il primer è fatto così, vedete è una mousse, lascia subito una bella sensazione di fresco e va a perfezionare la pelle, la grana della pelle, la lascia molto liscia e quindi vi dico anche la stesura del fondotinta poi è molto veloce. Quindi questo è sicuramente un prodotto che vi consiglio. Avevo tenuto anche la scatolina perché era troppo carino ma adesso bisogna che elimino un po' di scatole perché ne ho veramente tantissime. Poi come fondotinta ne ho due. Uno è l'Ista Mostur di cui vi parlo da tantissimi anni ormai. Questo è un fondotinta perfezionatore anche qui dell'incarnato perché non è un fondotinta molto coprente però va a uniformare il viso e lo lascia bello luminoso. Questo lo utilizzo veramente da tantissimo tempo, poi ce l'ho nella colorazione 1.5G. È un fondotinta idratante che secondo me va benissimo anche su pelle mista ed è un fondotinta con cui insomma mi trovo sempre molto bene quando l'utilizzo. Vi ho fatto anche almeno due dei tre di mi sembra con questo fondotinta. L'altro invece è il fondotinta compatto dell'edizione limitata Dolce Liva. Questo adesso in sconto mi sembra che costi sugli 11 euro. Io ho la colorazione 03 Light Beige. Questo è un fondotinta che utilizzo molto spesso in questi giorni che voglio fare un trucco veloce perché non è assolutamente un fondotinta impegnativo da mettere. Non è polveroso sul viso anche se in cialda spolvera un po'. La confezione mi piace tantissimo. C'è lo specchietto e sotto c'è anche la spugnetta che però io non ho mai utilizzato perché solitamente lo vado ad applicare con il pennello. Vi ho fatto anche il video applicazione di questo. La cipria che sto utilizzando invece adesso per il contorno occhi è questa sempre della collezione Dolce Liva che è quella trasparente in polvere libera. È una cipria fresca che va a levigare benissimo proprio la zona del contorno occhi e fissa perfettamente il correttore. Questa l'ho provata ad utilizzare anche su tutto il viso ma non mi piace perché tende a farmi lucidare. Invece per la zona del contorno occhi vi dico è perfetta perché non mi segna e non mi va a seccare la zona. Rimane bene per tutto il giorno e in applicazione subito è fresca. Dopo il fatto del fresco non si sente più però è proprio una bella cipria anche al tatto impalpabile che va a levigare perfettamente la zona. Poi per quanto riguarda invece i blush. I blush di Kiko mi piacciono tantissimo. Quelli che ho qui da mostrarvi che sono ancora disponibili sul sito perché gli altri sono tutti blush che ormai sono andati sono lo 03 della Lost in Amalfi. Questo è uno dei più belli che ho. Lascia il viso radioso, luminoso, ha una profumazione aggrumata buonissima ed è anche un colore particolare. Questo è quello che vi consiglio in assoluto di più. L'altro invece l'ho preso di recente, è un prodotto che volevo da tanto, ho aspettato che andasse in sconto. È sempre della Lost in Amalfi ed è un illuminante che io però utilizzo come blush ed è il Jelly Highlighter illuminante viso dal finish luminoso con texture in gel che assicura proprio un tocco sensoriale fresco, assolutamente vero. Non va a enfatizzare la grana della pelle quello che mi vedete anche oggi. Io l'ho utilizzato proprio come blush. Ieri l'ho utilizzato anche come ombretto mi è piaciuto tantissimo. Questo è un colore luminoso, fresco, molto bello per questo periodo ed è questo colore qui veramente bellissimo. Più che un illuminante io lo vedo proprio da utilizzare come blush. Come illuminante ne ho utilizzato sempre uno di Kiko, però di una vecchia collezione, quindi non ve lo mostro perché non c'è più. È della Ocean Phil, quindi molto vecchio. Invece c'è ancora l'illuminante della Ray of Love, almeno fino ad oggi che faccio il video c'è, poi spero che rimarrà ancora un pochino, anche perché poi questo video lo metterò a brevissimo. Questo è un illuminante marmorizzato, è l'unico di questa collezione ed è bellissimo. Questi prodotti io ve li ho fatti vedere tutti in applicazione. È un illuminante che non va a segnare la pelle, neanche questo, e lascia proprio quel bel finish luminoso, ma non troppo. Questo non è troppo illuminante, è abbastanza delicato, quindi non vi fa palla da discoteca e anche la confezione è troppo troppo carina. Passando poi agli occhi, vi consiglio tantissimo questi matitoni ombretto, sono long lasting, io li utilizzo con un primer sotto, mi durano meglio, però anche senza primer arrivano fino a 7 ore. Se li metto col primer mi durano tutta la giornata. Io ho in particolare 5, 6, 7, ve li ho mostrati di recente, quindi non vi faccio gli swatch perché ve li ho fatti veramente due video fa, e sono dei colori molto brillanti, molto belli da utilizzare sia da soli per un trucco molto rapido alla mattina, oppure anche come base ombretto per andare a applicare poi sopra dei prodotti in polvere. Poi, sempre per gli occhi, un prodotto che ho acquistato di recente, che volevo provare perché io con gli ombretti in crema non vado molto d'accordo solitamente, però ho voluto provare a prendere un ombretto in crema di Kiko, questo è della collezione permanente, ho scelto la colorazione 01 ed è quello che indosso anche oggi, è quello che ho utilizzato praticamente su tutta la palpebra per creare questo look luminoso e poi nella V esterna e nella piega sono andata a mettere due marroncini, ho fatto veramente un trucco molto molto semplice, questo è un ombretto che mi sta piacendo perché non mi va nelle pieghe, non fa l'effetto carta pecora, come di solito mi fanno gli altri che ho utilizzato finora e come colore trovo che sia molto carino da utilizzare anche tutti i giorni, mi è arrivato staccato dal vasetto, quindi lo vedete un po' così perché l'ho spinto giù con un pennellino ma non si è rovinato più di tanto riesco ad utilizzarlo tranquillamente, questo adesso scontato costa come gli ombretti in stick, mi sembra sui 4,89€. Sempre per gli occhi poi un matitone che io ho praticamente terminato è quello duo, è l'illuminante che ha due punte, una opaca e l'altra più luminosa, questo è molto bello da utilizzare per illuminare il sottoarcata e l'opaco per andare a uniformare la palpebra, anche questo è un matitone che vi straconsiglio perché ha una buonissima durata. Come mascara poi vi straconsiglio quello della Lost in Amalfi, questo è un mascara che ha una chiusura click and go, adesso non mi ricordo più come si chiama, vabbè comunque è abbastanza irrilevante, questo è lo scovolino, volumizza tantissimo le ciglia, le rende belle nere, io inizialmente questo facevo fatica a struccarlo, adesso vi faccio vedere uno struccante di Kiko che mi sta piacendo tantissimo per struccare anche i mascara, quelli waterproof o comunque quelli come questo che sono abbastanza strong da struccare, ve lo dico subito, lo struccante è quello bifasico, anche questo è famosissimo, io però non l'avevo mai acquistato, l'ho acquistato perché è quello che utilizzo sempre in negozio per rimuovere gli swatch e mi sembrava efficace, è uno dei pochi bifasici che non mi va a irritare gli occhi e strucca benissimo, quindi questo è sicuramente un nuovo top per me, perché io di solito utilizzo i burri e gli oli per struccarmi, perché con i bifasi ci faccio anche un po' fatica a trovare quello giusto per me, questo funziona veramente molto bene, non rimane assolutamente un punto, qui probabilmente lo conoscerete anche voi, è indicato per occhi e labbra ed è super consigliato, infatti me ne vorrei tenere uno di scorta, adesso che ci sono gli sconti, anche perché non ha un costo eccessivo, poi passando alle labbra, stavo guardando perché qui ho anche gli altri prodotti di cui vi devo parlare dei top flop e quindi devo capire a modo, allora no, passando alle labbra no, vi mostro un bronzer che mi piace molto e lo trovate ancora, questo è della Mood Boost nella colorazione 02, questo è un bronzer che io utilizzo sia per il viso che per andare a fare velocemente la piega dell'occhio quando voglio fare un trucco molto veloce, utilizzo questo per andare a fare proprio la piega e poi metto un ombretto luminoso, addirittura l'illuminante e sono già a posto, questo ha una texture setosissima e si sfuma molto molto bene, quindi anche questo è un prodotto che vi consiglio sicuramente, il packaging poi è bellissimo, soft touch rosa e profuma di vaniglia, super consigliato, adesso non mi ricordo tutti i prezzi perché alcuni pezzi li avevo già io, li avevo già presi non scontati, però nell'info box vi lascerò comunque tutti i vari prodotti e adesso li trovate sul sito di Kiko tutti scontati. Passando poi davvero alle labbra, le matite creamy color comfort lip liner assolutamente, le ho comprate anche di scorta, la 301 è quella che indosso oggi, è una delle mie preferite in assoluto, insieme alla 303 che mi sembra di avere indossato nel video prima di questo, quello sulla skin care, poi ho la 315, la 318 e ho acquistato la 302, è un colore che non avevo, oltre alla 301 di scorta ho acquistato la 302, è un rosa un pochino più carico, questa ve la mostro, è un bel rosa, una bella punta di rosa che si può tranquillamente utilizzare anche con dei rossetti che già possiedo. Queste matite hanno una mina morbida ma non troppo, non sbordano assolutamente, io li utilizzo spesso come unico prodotto per le labbra. Oggi sono andata ad applicarci sopra il Lip Volume, questo sempre di Kiko, che vi consiglio ormai da tantissimo tempo, nella colorazione 01 Tutu Rose, questo fa un bel effetto rimpolpante alle labbra, non appiccica, è il dupe del Lip Maximizer di Dior che ha tutto un altro prezzo, quindi anche questo ve lo segnalo di nuovo perché è un prodotto assolutamente top per me ed è un prodotto che dovete assolutamente provare se amate i lip gloss volumizzante, non tantissimo però sicuramente va a rimpolpare le labbra, non aspettatevi un effetto canotto come vi dico sempre, però lascia proprio un bel effetto, le labbra le lascia idratate e mi piace molto applicato sia sui rossetti che anche messo da solo con solo una matita di contorno. Quella che vi segnalo anche è la matita invisibile, questa è adattissima per contornare qualsiasi rossetto perché essendo invisibile praticamente vi fa da barriera in modo che il rossetto non sbordi però non dovete abbinarla, insomma come colore è molto comoda anche per quello perché se non avete una matita abbinata al rossetto potete, io delle volte faccio così, prelevare un po' con la matita al rossetto poi faccio il bordo e poi vado a applicare il rossetto o semplicemente applicare questa anche con dei gloss che magari tendono un pochino a sbordare, questa è fantastica perché proprio permette di non fare sbordare il prodotto labbra. Sempre per le labbra poi vi consiglio i rossetti powder power, io ne ho quattro, il mio preferito è lo 03, questi sono dei rossetti che non hanno un'altissima pigmentazione subito quindi li potete tranquillamente modulare, fare più passate anche perché non si sentono sulle labbra, questo è lo 03 ed è uno dei colori che preferisco, hanno una bellissima texture proprio sulle labbra, non si sentono, non fanno spessore, non hanno un'altissima durata su di me però comunque sono dei rossetti che sto apprezzando, anche altri colori un pochino più accesi per questa stagione e questi vi dico potete scegliere l'intensità della colorazione perché potete tranquillamente andarli a stratificare. Poi mi stavo dimenticando l'illuminante della Dolce Diva, questo è un prodotto che mi piace tantissimo, ve l'ho parlato già in tanti video, io ho lo 02 ed è un illuminante che mi dura tutta la giornata, fa un effetto specchiato come piace a me, un pochino in trasparenza, ve l'ho fatto vedere anche in azione anche questo ed è la colorazione che mi piace di più, le altre non le ho prese perché non mi convincevano, questa è la colorazione che in assoluto preferisco, vedete fa questo effetto specchiato e mi dura tranquillamente tutto il giorno anche se lo vado ad applicare sulla cipria direttamente, non fa effetto pastone perché vi dico è proprio sottile come prodotto e mi fa questo effetto che a me piace tantissimo, stavo guardando se avevo altro perché ho preso un po' le cose alla veloce per fare il video e quindi magari mi sono scordata qualcosa, spero di no, comunque spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile anche per scegliere delle cosine da prendere con gli sconti, con il buono da 10 euro se ce l'avete ancora da spendere, io l'ho già speso quindi per un po' sono a posto, vi farò poi anche il video dei top e flop low cost, adesso vedo se ho abbastanza cose, se no lo rimanderò, fatemi sapere se avete già provato questi prodotti, cosa vi piace, se avete qualcosa da suggerirmi, io come sempre vi ringrazio per aver guardato anche questo video fino alla fine, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, sempre se vi piacciono ovviamente i miei contenuti, per rimanere in contatto con me e supportarmi, vi ringrazio come sempre per la vostra presenza, vi mando un grande abbraccio e se vi faccio ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!